Ciao, siamo Rossana e Cody. Uso Cuore Mio da sei mesi e l'ho acquistato perché ero alla ricerca di un'alimentazione sana e veloce che mi permettesse di risolvere il problema della copropaggia nel mio carino. Dal primo utilizzo di Cuore Mio ho notato subito i suoi benefici. Pelo più lucido e morbido, riduzione della lacrimazione e del prurito e finalmente abbiamo risolto il problema della copropaggia che tanto mi preoccupava. La cosa che apprezzo di più di Cuore Mio è la scelta dettagliata degli ingredienti genuini e senza conservanti. Consiglio Cuore Mio perché è un alimento fatto col cuore e rende felice il mio Cody quando arriva l'ora della pappa. Grazie Cuore Mio!